Allora, siamo preparati per iniziare la preghiera insieme. Allora, siamo preparati per 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 la preghiera insieme. l'ha voluta per sua dimora, questo è il mio riposo per sempre, qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò a tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, e sul terreno di gioia i suoi fedeli, la farò germogliare la potenza di Davide, riparerò una lampada al mio consacrato, coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e reddento il suo popolo, ha risuscitato dalla morte Gesù suo Figlio, nella potenza dello Spirito Santo. I tuoi sacerdoti si restano di giustizia, i tuoi fedeli esultino. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù diceva alle folle Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti ai giudici, e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti, e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Un San Anzionale Un San Anzionale Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.